Guarda le mani, va bene. No, no. Ciao. Radicale cambiamento. Lei? Il problema è che forse può andare a tempo prima. Perché balla un po', però ce la facciamo, scusa. Io non lo vengo. E bisogna pure andare a vedere sopra. Ce la faranno le nostre cose. Ce la faranno. Ce la faranno.